Siamo allo stand Nobili e incontriamo Alberto Nobili, amministratore delegato dell'azienda, al quale ovviamente chiediamo prima di tutto le novità che presenta, le peculiarità. Certo, presentiamo questa nuova serie che si chiama Loop, ha caratteristiche importanti specialmente per quanto riguarda la cartuccia e poi il funzionamento del prodotto. Questa cartuccia è stata costruita tutta in mescolo alimentare, quindi attossica assolutamente alle persone e ha delle caratteristiche anche di risparmio energetico. L'unica cartuccia oggi sul mercato che ha di questa dimensione il limitatore al 50%, c'è una regolazione che serve per regolare la temperatura e c'è anche un limitatore di flusso. Cos'è il limitatore di flusso? In realtà l'acqua scarseggia sempre di più, aggiungendo questo piccolo limitatore uno stabilisce quant'è la portata massima, se il rubinetto funziona a 1 atmosfera o a 5 atmosfere. Quindi stabilito questo, se il rubinetto deve portare 8 litri, porterà 8 litri con una pressione di 1 atmosfera o di 5 atmosfere. La serie poi è abbastanza complessa nella costruzione perché è una serie quadrata con degli spigoli arrotondati e quindi l'applicazione della bocca all'interno del corpo è stata veramente complicata come progettazione. Una tecnologia che sfonderà nel mercato, che sarà una novità assoluta? Lo speriamo, insomma. Cerchiamo sempre di fare dei prodotti sempre più all'avanguardia, questo è un prodotto sicuramente molto innovativo, è completissimo perché c'è tutto un sistema doccia, più a veramente tanti oggetti come accessori, portasaponi, dispenser, portabicchieri e la gamma di prodotti è anche veramente molto completa. Invece gli obiettivi, le idee, le prospettive future? Ma stiamo lavorando anche un pochettino per quanto riguarda l'elettronica, è un po' più una nicchia che le quantità vere e proprie di prodotto come facciamo di solito noi come azienda. Siamo abituati a fare numeri abbastanza importanti, quindi non facciamo tanti prodotti di nicchia ma facciamo prodotti di quantità, insomma. Ma il rapporto qualità-prezzo materiali? È tra i migliori perché chi fa tanta qualità deve fare un prodotto che va bene perché se dovesse avere dei problemi, i problemi sono tanti. Chi fa invece bassa qualità, anche se qualcosa non va tanto bene, i pezzi sono talmente pochi che uno non deve tribulare. Quindi sicuramente nel fare un prodotto di grossa tiratura bisogna essere bravi a non sbagliarlo mai. Senta, alcune impressioni su queste prime ore del Cersaie 2010? Ma sempre una buona affluenza, il Cersaie per noi è sempre una bellissima fiera, vengono molti stranieri e speriamo che anche quest'anno sia come gli altri anni. E invece le previsioni per il 2011? Molto buone, molto buone perché la nostra logistica sta andando sempre di più in funzione, diamo un servizio superiore per quanto riguarda le consegne che era un po' il neo di Nobili in questo momento e quindi i nostri clienti ci hanno garantito che se per caso consegnassimo molto bene cresceremo sicuramente anche l'anno prossimo. Gli obiettivi sono veramente stupefacenti, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, le auguriamo buon lavoro e a presto, arrivederci. Grazie a voi. Grazie.